Il basket di strada è quel qualcosa in più, non è paragonabile a un 5 contro 5 all'interno di una palestra. Penso che la cosa più bella sia quella di sentire il calore del pubblico e quindi di vivere intensamente la partita o comunque la competizione. Live the City, Live the Sport è sicuramente ciò che caratterizza un po' questo movimento, perché sicuramente giocare davanti a tanta gente in una piazza, in un campetto con il calore della gente sarebbe qualcosa di speciale. Non c'è una persona o una squadra che li porta a tifare, ma è comunque la voglia di simpatia magari per una squadra o meno che porta a tifare per loro. Penso che il gioco di strada sia un modo per creare nuovi giocatori, nuovi ragazzi, permettere a loro di esprimersi. Il fatto di giocare anche in strada, secondo me, crea dei rapporti con le persone. Non importa le squadre in cui vai o da dove vengono i tuoi compagni di squadra o da dove arrivi tu, ma il gioco è quello che ti unisce ed è quello che porta a raggiungere i tuoi obiettivi. Vivere la propria città attraverso lo sport è un'esperienza fantastica. A Roma c'è un campetto che affaccia proprio sul Colosseo, andare a tirare lì è una cosa impagabile. La differenza tra campo da gioco e campetto è che ha il campetto e la possibilità di creare. Ciò tipo di torni sono i migliori, spero che potrò giocare e giocare con voi.